La tradizione che si perde nella storia dell'Abruzzo è il titolo dei ceci della sposa. Un rito che si compie ad ogni sposalizio nel paese di Pescasseroli e che da sette anni è diventato anche un attrattore turistico. Oggi in consiglio regionale, con la presenza del vicepresidente Roberto Sant'Angelo, è stata appunto presentata la settima edizione che si terrà l'11 agosto 2019. Erano presenti Maria Grazia Tuccinati, presidente dell'Associazione Culturale che organizza la manifestazione, e la dottoressa Evelina Saltorelli, che ha tracciato il profilo storico dell'evento facendo cogliere appunto anche l'aspetto tradizionale, culturale e religioso della manifestazione. Abbiamo ascoltato il vicepresidente Roberto Sant'Angelo che spiega le motivazioni del patrocino del Consiglio regionale. Noi come Consiglio regionale, oltre a rilasciare il patrocinio a questa manifestazione culturale, abbiamo inteso essere coorganizzatori, perché come Consiglio regionale le iniziative più meritevoli del nostro territorio e della regione Abruzzo intendiamo copartecipare all'organizzazione dell'evento. Questa di Pescasseroli è un'unicità, è una storia che si perde probabilmente nei millenni, nei secoli addietro e non è facile da datare questa dei ceci della sposa. Noi vogliamo attraverso la riscoperta dell'identità, della tradizione, dei caratteri fondanti nei nostri territori, vogliamo fare una promozione degli stessi. Il simbolismo di questi ceci è un simbolismo tutto legato alla fertilità e all'abbondanza. è una tradizione legata anche ad una società matriarcale, in quanto la lavorazione è tutta delegata alle donne, alle donne anziane che insegnano alle donne giovani a fare i ceci ed ha un simbolo di buon augurio.